Tutto calcio! Si è appena conclusa la sfida tra il San Benedetto Venere e la Procelano, vince il San Benedetto Venere grazie a un gol di Altobelli. siamo con alcuni tifosi del San Benedetto quante emozioni c'è per questa finale conquistata? Tantissime emozioni siamo contentissimi del risultato e che dire San Benedetto ci ha regalato un'emozione enorme Ma quanto è importante il tifo per una squadra come San Benedetto? Per una squadra come San Benedetto il tifo è fondamentale perché incita la squadra a segnare la prende nel cuore la squadra è una cosa indescrivibile poi quando si fa il tifo tutti insieme è bellissimo